musica 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 57 volte e 41 kill no schifo ah marco io ero secondo fin poco tempo oh che cazzo mi stai spara- ma non stai spara- metodo cazzo proprio un colpo edo porca futtana muore si 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 cazzo si cazzo io ho domandato qualcosa si si è praticamente morto già du si è volato cazzo guarda muore guarda e porta e passa dai cazzo in barca madonna che botta di culo guarda 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 edo 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 dai che cominciamo la mappa è quella adatta ma dai edo dai 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 che adesso spawn e miso il posto giusto spara c'è una cosa che è uh si si che è che sta volando nooo nooo ha messo la gravità a zero nooo fai schifo attenzione l'ho preso il volo che cazzo sta sparando da nooo guarda che ho trovato la capa che ti avessi sparando dai cazzo ieri per io fare poi altro la stai volando senti che volo che figata ma non mi rio un cazzo quel mirino nooo non mi rio niente ah guarda sapevo che faceva anche margot sapevo che sto pezzendo che lo faceva nooo no che faccia da culo nooo ma perchè che sei morti che cade dall'altro puto no 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 vaffanculo ma perchè che sei morti che cade dall'altro puto no no vaffanculo vado a mente un'idea io guardalo guardalo no mi stanno già sparando nooo la mia mitte naturale questo aia puttana vaffanze fatto ma perchè ma perchè adesso si salta tipo 1km di risposta perchè marco ha dato la gravità grattà ciao ciao vedo vedo qualcuno sopra la no maledetti colione su quarto colione su quarto maledetto marco se vengo la ti sberto anche il te le danno anno anno si ma dai non li sai neanche a mirare dai che si trova un punticino oh io ti ho detto prima ma è io campo d'oltre cazzo sei invulnerabile di volta che ho sparato non voglio nooo io cazzo guarda sull'alba era bastato bastato io cazzo mi sei una figata no ah no no mi vedono aiuto madonna la la allora tu come piaci e come vola guardalo cosa vuoi io cazzo 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 ma ma questo oh che cazzo sta sparando ahia ahia va fangula ah ah naca visto porca schifo no se non so madonna in due ah 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 no coccoli io cazzo non posso andare sopra figa però stavo qua a bestemmie madonna cazzo cazzo ma ho detto evitare il mio trucchetto ma ah ma vai figa ma dai è possibile brincare uno ecco mi chiamo beh si 10.000 persone ah ma dai è possibile brincare uno che vola ed occhio oh oh ma che cazzo è sta storia madonna ma vaffanculo cazzo i due a saltarmi dietro madonna che schifo di partita vabbè una roba pessima ma sta veramente fa schifo e adesso qui con i due come al solito ma che non andava cazzo avevi la spalla fuori ma che cazzo la spalla fuori la spalla fuori la spalla no la palla non sta a pensare a culla ton che merda che merda che merda che merda che s... vedo tizio 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 la impara l'ubicazione madonna che cazzo che cazzo per perdere una kill no 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 madonna ha fatto fuori tono di caricatore dicando di brincare qualcuno ecco si ma dai par da essere tipo coso quella la delle anatre che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo marco sei una eh sapevo che era marco merda ciao marchino eeeh che cazzo che cazzo guarda quanti guarda quanti che volano guarda gente che cazzo l'arma del mondo la cara questo tipo 4 la bisogna volare via dai grazie madonna guardalo chi è sto stro... troglodita che mi sta sparando ma non te puoi spararmi davanti guarda quanti guarda qua nooo dall'alto come cazzo hai fatto mica me dall'alto no eeeh guarda che negro te l'ho occupa ma dai sto morendooo ma dai sto morendooo ma porcos perchè è qui perchè è qui perchè è qui perchè è qui nooo edo versione nooo nooo ma ti quanto c***o hai detto che te lo scaricare un caricatore vabbè ancora no chi cazzo ma porcos il signore mi spunto ogni volta davanti sassino dell'universo eh sapevo che c'era qualcuno detto qua maledetti io bevo bestegnare sconsantemente ahahah sennò esplodi ma perchè sempre mi spunto in questo davanti io fucco mi ha domandato qua ma che riesce a bricare uno saltando come un collione ahhh ahhh ma no ahah ma no ahhh si vabbè madonna ahhh se noi sovrerei no morenda e tira mano ahhh ma perchè di arrivare col paladrivo hai visto la c***a ahhh eh appunto se le devo fare da kinda ahhh 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 ahhhh ahhh 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 Sì, solo perchè c'era questa roba qua, sennò si è riuscita a portare un sacco di volte Marco, stai zitto a ti Hai le vinte due, io una tappa Come c***o, 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 ma che c***o Ha vinto Il gioco ti odia Ci sono a fine che tremo sul t***o Oh, manco quello che è s*****a, puttana Sì, tanto più bestemmioso perchè non riesci neanche a mirare, perchè il gioco lo conto come se fosse il movimento Oh, che c***o Eh, ok, quindi dalla parte sbagliata Madonna, chi è? Marco, m***a C'è un... un cefologramma piatto C***o che mira Io a fare tale ba... C***o, c***o, c***o Ma non muore, ma non muore Eccolo qua Ciao, D, D, D Ciao, D, D Ma porra, eh, sono morto Eh, che c***o Marco, c***o Che è che ho ferito ma non muore Talma, mamma, mamma Maledetto che ti ho mispirato Ma i c***o Che dopo che sei morto, Ronny, le persone stai a sconto tutto su? Sì, ma dai Paola C***o, c***o Madonna che stavo smirando, stavo mirando l'acqua Ah, pensavo fosse un musco in Nooo, piano, piano qua No, che me nego, Dio Eh, i problemi della vita che ti ti dà a dire Ti ho una porra di trieste su poi il microfono Attualmente non ti ringrazio Maledetto, stavo... C***o Marco è primo intanto Marco sei una brutta persona Ecco, giusto, vedi, sei buono E porco Noi, vabbè Instagram, minchia Ma come faccio io, mi ravi? Ma come? No, vaffanculo Ma, 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 ma da dove? Ma da dove? Ma da dove? Madonna, vedi qua che ti coppa Porca p***a Mi permette che mi britti C***o Oh, madonna Ma to prendernā un colpo Madonna marlechino Nooo Ma dai, ma... Oh, doppia uccisione VARI Ma che cosa tu co... Maledetto, ma sapevo che era qualcun altro La kill dell'anno Dell'anno, la kill Ecco, maledetto, ma che vicino a questo faccio da culo Madonna Io demolisco le porte adesso Casi arreda Dovamo fare casi arreda sulla luna Chi cazzo è che sta correndo? Non sei Gesù Cristo, torna giù Mamma, mi è brincato No, maledetto Marco Io qui dico, adesso dico qualche parola, c'è anche qualche bestemma Beh, sì, perché fino a che cazzo hai detto, sono parole dolci No, no, che cazzo mi sta sparando da lontano Ciao Madonna Oh caputana No, non voglio morire Marco fai schifo come la merda No, ma è buono che sei buono, è 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 possibile Ma dai, non ti preoccuparti altro! Ha! Bitch! Eh, vai in figa te! Perché se c'è che bestemmerò in cileno antico? Madonna! No, vai così, vai! Eh, vabbè! Ciao Matti! Oh, 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 oh! Perché io stavo cercando di tirarmi? Ciao, beh! No, no, no! Adesso vengo dentro casa con la minigun Eh, Marco dicevi? Canto si dicevo, ho capito! Chi poteva mai essere da lì? Ma chi poteva mai essere? Eh sì, ecco la pista o minchia! Cazzo vuoi fare? Che anche di che non sia altro Guardalo, guardalo, guardalo! In tre! In tre! In tre! No, un attimo, se vuoi spararmi! Facciano le cose buono! Sei brinca- Ma perché hai sparato a me? Perché hai sparato a me? No, no, no! Oh, uno è morto! Mi lo stavo mirando! Aiaiaiaiaiaiaiaiaia! Cazzo che sta sparando! Ma vaffan, porco! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Oh, mi sono a morire! Vaffanculo! Oh, ho sparato contro sulla colonna Ho fatto f*** Oh, eh, mi scusi! Eh, scusami! Eh, scusami! C***o di fretta! Aspetta un attimo! No! No! Aiuto! Attenzione! TV di Janelle! Oh, c***o! C***o di sordi qua! C***o di profumo da 2 euro, qua! Nooo! Saremo sta porta, porca! Eh, mia cosverta! Sunti sempre davanti a me! Eh, mi va bene tutta mia! Eh, c***o che mi stava sparando adosso! Non volemo... Eh, eh! F***o! Pare che sarebbe la quarta volta che ti uccidi! Eh, che palle! No! Ma quanti c***o siete qua, porco cane? Eh, infestazione! Ah, sì! Buona notte! Sto ricaricando io! Ma dove spara? 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 No! Allora, che ninja! Che gamberone di merda! Oh, che c***o mi sto sparando! Ma vaffa! Ma dai! Ma sto sparando un caricatore di terra! Sono ancora vivo! Faccia da c***o! Ma tu! Ah, troppa! Wow! Madonna! Che c***o era? Che mi sono c***o sotto! Visto! Oh, la! Oh, prima Marco prende merda! Oh! Vabbè! Sì, intanto ne vinta una su quante? Su quattro! Ah, lo peori ancora a girarmi! C***o! Ecco, vinti! Questa è 28 kill! Basta! Non registro più, sennò va a finire che riempio un terra dal disc! C***o! Ma perché compara? Se 300 milioni e persone non niente! E con questo abbiamo concluso! Grazie dell'attenzione e arrivederci! Bella raga! Ciao!